Perfetto, ecco, è avviata la registrazione. Le faccio una breve presentazione, breve perché ho visto il suo curriculum in ambito politico, ha fatto tantissime cose, non posso ricordarle tutte, però alcune cose in generale le posso dire. Bene, intanto benvenuto onorevole a questo ciclo di seminari sulla Germania. Siamo ovviamente molto felici di ospitarla. Tra l'altro il suo è un punto di vista diverso, che ci interessa anche molto, perché è un punto di vista che viene anche dall'esperienza politica in senso stretto. Due parole su di lei. Lei è stato vicepresidente del gruppo dell'Alde al Parlamento europeo. L'Alde, lo dico per i ragazzi che magari non sono molto dentro le questioni dei nomi, è l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, che, se non sbaglio, adesso ha un nuovo nome, si chiama Renew Europe. Attualmente, però, svolge, quindi è un europarlamentare, stato europarlamentare, attualmente svolge i compiti di alto funzionario del Parlamento europeo, a capo delle unità Asia, Australia e Nova Zalanda, ed ha un incarico per ciò che riguarda le relazioni con l'Iran e i paesi dell'Asia centrale. Ho visto che ha pubblicato diversi libri, molti si riferiscono a viaggi che lei ha fatto, soprattutto in Africa e in Afghanistan. Cito gli ultimi due, Shoah e Rwanda, due lezioni parallele, in confronto tra il geneoscito degli ebrei e quello dei Tutsi, spesso dimenticato, e Notta a Gaza, tra droni e asinelli. Oggi ci parla di Germania, leggo il titolo della sua relazione, percezione di effettività del ruolo della Germania nei suoi 30 anni di unità in seno all'Unione Europea. Prego, onorevole, a lei la parola e grazie di nuovo di essere nostro ospite. Professore Pendenza, grazie a lei e buongiorno a tutti gli studenti, molto contento di questo nostro incontro. Il mio ringraziamento in realtà è esteso un po' per tutta questa iniziativa che avete intrapreso, grazie al professor Pendenza, di una serie di incontri, se ho capito bene questo è il settimo, dedicati a questo rapporto così complicato, così complesso tra la Germania e l'Europa, e la costruzione europea, e tra la costruzione europea e la Germania. Il professore ha tracciato alcuni elementi del mio percorso, ci ritorno brevemente perché possono aiutarvi a capire un po' il mio punto di vista, la mia pratica della questione tedesca, per così dire. Io sono laureato tra l'altro in sociologia, con un professore che il professor Pendenza conosce bene, Gianfranco Bettin, ma mi laureai con una tesi fatta in Africa, una ricerca sul campo, era la fine degli anni Ottanta, quindi moltissimo tempo fa queste cose erano abbastanza inusuali, il professor Bettin all'Università Cesare Alfieri di Firenze, fu l'unico che mi dette questa possibilità, di effettuare una ricerca sui piccoli lavori della strada a Dakar. Poi sono entrato a lavorare molto presto al Parlamento europeo, prima ancora proprio della discussione della tesi di Laura, era il 1988 come tirocinante, poi ho fatto tutta la trafila, l'assistente, il concorso, sono diventato funzionario nel 1991, anche se nel frattempo ha avuto due anni di esperienza tra l'89 e il 1991 come funzionario delle Nazioni Unite in Afghanistan. Mi sono sempre occupato di relazioni esterne, di politiche estere, dove la Germania, all'interno della voce europea e della presenza europea sugli scenari internazionali, ha sempre una posizione molto interessante e diversa, voglio dire, da quella che può essere italiana, spagnola, francese, naturalmente i britannici fino a quando ci sono stati e via dicendo. Nel 2009 mi sono candidato all'elezione europea, sono stato eletto, ho fatto un mandato, ma alla fine del quale, durante il quale appunto, come il professore ricordava, è stato vicepresidente dei liberal democratici e ancora una volta mi occupavo molto di politiche estere per il gruppo, per la Commissione Commercio Estero, del commercio internazionale, ma il fatto di essere stato vicepresidente della famiglia dei liberal democratici, devo dire, mi ha messo costantemente, devo dire quasi in modo quotidiano, in relazione con le istanze politiche della Germania, perché era un periodo, un quinquennio in cui l'FDP, i liberali tedeschi erano particolarmente forti, avevano posizioni importanti anche al governo, con Westerwelle, avevano una fortissima rappresentanza in Europa e quindi il rapporto di lavoro, le convergenze o le differenze, fu veramente qualcosa che ha scandito costantemente quei cinque anni di impegno parlamentare, al termine del quale poi sono stato reintegrato, dopo l'aspettativa, nel mio ruolo di funzionario, appunto come il professore diceva, sono responsabile per questo dipartimento geografico che cura i rapporti tra il Parlamento europeo e tutti i paesi che vanno dall'Iran fino alla Nuova Zelanda. Devo dire, sì, che la Germania è sempre stata una questione abbastanza peculiare, Io ho scritto una piccolissima cosa su Facebook per comunicare agli amici che avrei avuto questo incontro oggi all'università con voi e ho ricordato una frase che una collega, tra l'altro vicepresidente del Parlamento all'epoca tedesca, mi disse insieme a un altro parlamentare tedesco entrambi poco più giovani di me e mi disse così, proprio intorno a una birra, cioè un'occasione del tutto conviviale, mi disse, noi facciamo parte dell'Unione Europea perché se non fossimo parte dell'Unione Europea non ci potremmo guardare allo specchio. Mi disse così e io gli dissi, beh, ma posso capire, ma voi che centrate? Poi lei sposata con un irlandese, l'altro con un nome, l'altro tedesco parlamentare con un nome portoghese perché di famiglia, di seconda generazione di immigrazione arrivata da Portogallo è uno dei tanti casi di successo, di integrazione, potrebbe diventare parlamentare europeo, di migranti in Germania. E lei però disse, ripeto, era una discussione che poi non fu approfondita, era una sorta di battuta, però molto seriamente mi disse, no, è proprio così, tu non ti rendi conto del peso che noi ci trasciniamo, anche le nuove generazioni o forse non più le nuovissime generazioni, ma la generazione nata negli anni Sessanta, negli anni Settanta, di questa appartenenza all'Europa come un'occasione di riscatto. Vale a dire, come avete capito, io da tanti anni, ormai da più di trent'anni, lavoro dentro le istituzioni europee, con colleghi che vengono da tutti i paesi, alcuni arrivati anche recentemente, pensate all'ultimo allargamento, e poi parlamentari, che non sono persone che vivono a Bruxelles, ma andate e ritorno costantemente tra i loro paesi, le loro città e Bruxelles. Ognuno, come dire, appartiene e fa parte di questo progetto per delle ragioni che spesso sono molto diverse. Cioè, certo, da parte di alcuni di noi c'è la ragione per cui facciamo questo lavoro e facciamo politica per l'Europa perché vogliamo costruire gli Stati Uniti d'Europa. Io alla vostra età spendevo molto tempo, utilizzavo molto tempo per finire le elezioni per forse perdermi o forse crescere, non lo so, nelle riunioni dei federalisti, dei giovani federalisti, e da allora sono sempre rimasto federalista, e non avrei mai fatto il lavoro che ho fatto, la carriera che ho fatto, per così dire, se non avessi avuto questa forte convinzione, questa determinazione, devo dire, questa militanza che mi ha dato molto, tanto quanto mi può aver dato la preparazione accademica. in realtà il far parte del progetto europeo perché si voglia costruire gli Stati Uniti d'Europa rappresenta la volontà di una minoranza, il che non vuol dire che gli altri ci stanno con meno convinzione, ma ci stanno per delle ragioni che possono essere diverse. Naturalmente sarebbe molto lungo approfondire questo argomento adesso, ma non c'è dubbio che per un francese la scommessa sull'integrazione europea fu una scommessa di garantire la propria sicurezza, la sicurezza di un paese che nelle lotte che hanno scandito regolarmente tanti secoli del nostro continente con la Germania a un certo punto deve essere superata e arrivare alla riconciliazione franco-tedesca per garantire appunto la sicurezza del paese, ma fu anche ed è anche una modalità di affermare una nuova forma di dominio finito l'impero francese, le colonie francese nel dopoguerra come permettere alla Francia di avere come dire un posto a testa alta nel mondo rispetto all'America, rispetto al mondo anglosassone e via dicendo, avere un ruolo protagonista dentro l'Europa. I paesi del Benelux che si sono come dire sempre concertati che hanno fatto prima degli altri una propria integrazione tra di loro ancora una volta hanno visto nell'Europa una occasione di sicurezza è un'occasione di superare le loro piccole dimensioni che dovevano essere temperate con comunque le ambizioni di essere società avanzate, società prospere, società quanto più moderne. Per l'Italia, sappiamo perché l'Italia entrò in l'Unione Europea, era mille ragioni, era il modo per evitare che l'Italia che aveva il più forte partito comunista italiano potesse cadere in un'influenza vicina a quella dei paesi del blocco sovietico o quantomeno un'esperienza che poteva essere quella intermediaria della Jugoslavia. Era l'occasione indispensabile per questa fu la ragione dell'adesione alla cieca per avere quelle materie prime e da una parte uno sbocco per l'eccesso di mano d'opera che non riusciva a trovare occupazione nel nostro paese in un'Italia completamente da ricostruire dopo la guerra. Era anche la possibilità di avere un riscatto che era già cominciato con la resistenza che permetteva al paese di superare l'esperienza della dittatura e del fascismo. Pensate a che cosa rappresenta l'Unione Europea per la Spagna il Portogallo la Grecia cioè paesi che escono dalla dittatura e si ancorano e recuperano il ritardo accumulato recuperano proprio il ritardo accumulato con questa fretta di innovarsi di crescere di utilizzare bene le risorse europee di investire nelle infrastrutture e vi dicendo grazie proprio all'Europa rompendo quello che era stato una sorta di isolamento che era durato fino a tutti gli anni 60 e parte degli anni 70 questione analoga a quella dei paesi dell'ultimo allargamento che hanno visto l'Unione Europea la possibilità di recuperare il tempo perduto dopo aver fatto parte per molto tempo del blocco socialista diciamo del blocco sovietico insomma la prospettiva tedesca è diversa la prospettiva tedesca e l'ho sempre vista come far parte dell'Europa non per scordare la la vicenda nazista ma per farsi che non è mai scordata e che è sempre sotto traccia rimane sempre come qualche cosa che che una sorta di complesso che che è pronto a fare capolino costantemente ma come la possibilità di una di una di una redenzione quello che con parole semplici appunto la mia collega a un certo punto mi ha detto in questo modo noi possiamo guardarci allo specchio naturalmente tutto questo non ha fatto sì che la Germania non fosse non sia più come dire la Germania cioè la Germania ha rispetto agli altri paesi molto di più anche rispetto a un paese sistemico come la Francia portato in Europa la sua tradizione di paese sistema organizzato che lavora sui dossier con grande metodo che ha una chiara percezione di quelli che sono gli interessi nazionali con una classe politica che sa fare squadra nelle sue varie componenti al di là delle differenze nazionali laddove ci siano delle questioni che riguardano punti nevralgici del del proprio paese mentre non so l'Italia ma la stessa la stessa Francia ma la stessa Gran Bretagna sono tutti paesi capaci di grandi divisioni interne una volta che si scende sul sul teatro sul teatro sull'arena nell'arena europea ecco la Germania sicuramente è un paese molto più omogeneo da una parte organizzato dall'altra a seconda del punto di vista che vogliamo prendere su questa questione però soprattutto è un paese che costantemente deve cercare ed è grazie a questo sentirsi europeo scommettere sull'Europa di superare quelli che sono pregiudizi che vengono dal cuore del novecento nei loro confronti io ricordo quando ero ragazzino erano stati inizio degli anni 70 ragazzino sono nato nel 62 un episodio in spiaggia una famiglia che disse noi non vogliamo questi accanto perché non possiamo sentire parlare tedesco accanto a noi e fecero allontanare una famiglia tranquillissima di tedeschi che stavano sulla spiaggia e qualcuno chiese a questi italiani che non volevano i tedeschi accanto e questa signora disse ah lo dovreste chiedere ai miei genitori poi la cosa finì lì chissà che cosa era successo nella vicenda e la famiglia tedesca senza battere ciglio si spostò non ci fu nessun tipo di incidente o polemica o altro allora forse noi dobbiamo capire questo questo elemento traumatico psicologico che comunque è più forte di quanto magari riusciamo noi a percepire nella in una sorta di coscienza collettiva collettiva tedesca ora la Germania in questo rapporto con l'Europa che ripeto in questo è unica anche come dire ha avuto per altri aspetti meno strascichi invece di un passato che altri volevano mantenere per dire la Francia si porta dietro e lo vediamo tuttora il peso insomma della difesa della francofonia nel mondo delle colonie perse ma dei territori d'oltre mare che sono ancora mantenuti l'idea della grandeur francese di cui insomma tante volte tante volte tante volte parliamo il Regno Unito questo 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 rapporto col Commonwealth questo legame privilegiato con gli Stati Uniti che ha portato alla fine all'esplosione di questa contraddizione tanto da da risolverlo con 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 il Brexit l'Italia con un rapporto tradizionalmente molto forte con con gli Stati Uniti ma poi un paese legato in mille modi al Mediterraneo alla sua dimensione mediterranea la Spagna naturalmente come arrivata in Europa ha veramente in parte anche il Portogallo ma ha portato a un miglioramento una moltiplicazione dei legami sotto tutti i profili politici commerciali oltre che culturali con con l'America con l'America latina ecco la Germania questo tipo di invece tradizione passato da immettere nel nel processo europeo ce l'ha avuto in modo molto più limitato anche perché quello che era una zona di influenza tedesca l'Europa centrale era diventata da una parte una zona ostile alla Germania dal mondo slavo ma per certi aspetti perfino l'Austria e poi in buona parte una zona per non parlare della Danimarca per non parlare dei paesi scandinavi ma da d'altra parte una zona che era comunque oltre la cortina di ferro per cui c'era poco da portare in termini di relazioni privilegiati dentro l'Europa e quindi la Germania è stata più di altri paesi indotta come dire a lavorare su se stessa sulla sua propria ricostruzione e a investire nella sua identità come appunto un'identità che non poteva e non doveva e non poteva proprio essere immaginata altrimenti che non quella l'identità europea la difesa ad esempio un esercito come l'esercito le forze armate britanniche francesi ma perfino le forze armate spagnole e via dicendo hanno una tradizione molto forte che non vogliono in qualche modo perdere che vogliono sempre portare o sottolineare laddove vi siano delle misure di integrazione europea ecco questo è un problema che la Germania non ha la Germania ha delle forze armate che per certi aspetti visti i pregressi è ben contenta di far apparire delle forze armate quanto più europee possibili certo tedesche ma quanto più europee più europee che tedesche rispetto a quelle che possono essere le forze armate francesi che devono essere più francesi che europee e questo è sicuramente un 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 dato che vediamo nel dibattito politico tedesco perché verdi liberali e ovviamente SPD e CDU sono tutte forze che nella loro ma perfino Linke non hanno mai nella loro diversità non hanno mai rimesso in discussione i capisaldi dell'appartenenza della Germania nell'Unione europea anche scelte che sono state complesse difficili da ingoiare per l'adesione all'euro quindi la rinuncia a un mito che è stato così importante perché non era soltanto il marco tedesco un elemento voglio dire economico ma è stato proprio un elemento identitario di una Germania da ricostruire dopo la seconda guerra mondiale ma insomma nessuno ha mai messo in discussione i capisaldi dell'appartenenza tedesca europea c'è sempre stato un consenso nazionale che è stato transpartitico molto di più di quello che è accaduto nel nostro paese noi abbiamo avuto dei governi molto più prudenti se non scettici rispetto al rapporto con l'Europa ma questo è avvenuto assolutamente basta vedere tutta una parte della destra ma anche della sinistra della sinistra francese e insomma il referendum per la costituzione europea è stato ucciso dai francesi e poi dagli olandesi non avremmo mai pensato voglio dire che una cosa del genere avrebbe potuto accadere e infatti non è accaduta in Germania dei governi con delle forze politiche che si erano pronunciate almeno fino a pochi giorni prima per così dire di diventare forze di governo si erano pronunciate per l'uscita del paese dall'euro li abbiamo avuti in Italia non li hanno avuti in Germania questo tira e molla sul ci siamo non ci piace ce ne andiamo vogliamo cambiare che poi ha portato alla rottura della relazione è successo con la Gran Bretagna non è successo con 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 la Germania la crisi che ehm l'Ungheria per un certo periodo la Repubblica Ceca adesso ancora l'Ungheria e sicuramente la Polonia proprio anche in termini valoriali eh del rapporto tra certi governi meccanismi di appartenenza europea riguardano quei paesi ma mai la 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 Germania cioè la Germania ha tenuto comunque una linea di consenso politico istituzionale nella società che non ha mai messo in discussione l'appartenenza all'Europa come non è accaduto invece negli altri paesi del nostro del nostro continente devo dire che c'è eh una sorta quindi di elementi che si 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 sono eh si sono combinati gli uni con gli altri eh questa redenzione questo eh ricominciare e rifarsi una coscienza attraverso l'essere europei e non soltanto tedeschi sempre tedeschi ma anche europei cioè questo effetto redenzione che dicevamo prima questo potersi guardare eh allo specchio e poi eh il fatto di non avere ehm come dire un retroterra che erano le colonie francesi che era il Mediterraneo per l'Italia e via dicendo che eh ha fatto sì che in qualche modo l'Europa fosse lo spazio vitale l'unico spazio vitale su cui eh investire ehm e tutto questo poi si è combinato con il processo di di riunificazione lì come dire questa scommessa sull'Europa è come raddoppiata perché la riunificazione tedesca era indispensabile è stato come dire un processo eh enorme eccezionale di 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 riunificazione di una ferita non soltanto economica o storica ma 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 proprio il superamento di un di un di un dramma che si era protratto eh per 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 troppo tempo ma una riunificazione che non poteva avvenire se non sotto l'egida dell'Unione Europea a parte che è intervenuta anche grazie a ingenti finanziamenti europei ma al di là di questo era una riunificazione cioè il ritorno non alla Germania con i confini perché molto è stato perso comunque sudetico anzi tante altre cose voglio dire ma eh è stata comunque possibile questa riunificazione perché avveniva dentro l'alveo europeo se non ci fosse stata l'appartenenza della Germania dell'Unione Europea probabilmente il resto dell'Europa non avrebbe permesso alle due Germani di riunificarsi o comunque di riunificarsi così rapidamente come eh eh è accaduto ehm quindi tutti questi elementi l'identità il 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 riscatto eh gli interessi nazionali altrimenti non non eh possibili da da portare avanti eh hanno hanno avuto eh come come elemento come filo rosso come elemento cruciale questo questo appartenere all'Europa tutto ciò che cosa ha comportato innanzitutto ha comportato che la Germania è sempre stata come dire eh tra i paesi eh europei uno dei più eh costruttivi e dei più eh propositivi ehm cioè 1950 facciamo una rapidissima carrellata l'avrete già fatta perché con con gli incontri che mi hanno proceduto immagino molte di queste cose eh l'avrete più che masticate ma insomma 1950 abbiamo la dichiarazione eh Schumann eh subito Adenauer è tre prime a dire ci stiamo va bene 1950 cioè abbiamo una Germania ancora occupata da tutti una Germania divisa una Germania eh distrutta ehm le uniche le uniche voci un po' perplesso sono quelle della SPD eh rispetto alla dichiarazione di Schumann che non è però una voce di preoccupazione per l'Europa è una preoccupazione dicendo quanto noi diventiamo eh parte di un processo di integrazione europea tanto rischiamo di dividerci dall'altra metà tedesca che rimane sotto l'occupazione l'occupazione eh sovietica poi nel 1951 subito l'adesione alla 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 cieca e poi eh sei anni dopo alla CEE e eh e all'Euratom eh tutti i progetti eh dove ehm la Francia sembra avere il ruolo protagonista le sedi delle istituzioni vengono messe eh dove? A Strasburgo a Bruxelles certamente non 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 in Germania eh i campioni sono Spach Schumann eh l'uomo forte dell'Europa in quegli anni è eh comunque De Gaulle eh l'Italia ha un rapporto ripeto molto protetto è privilegiato con il Vaticano con 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 gli Stati Uniti la Germania per certi aspetti come dire è grandissima importante ma è ancora in rovina eh ma si deve accodare ma lo fa lo fa eh volentieri nel 68 è uno dei paesi che pone meno problemi rispetto all'eliminazione dei dazi doganali interni eh nonostante sia una delle economie che eh avendo una una potenza che nel frattempo era tornata a essere protagonista come potenza industriale avesse forse qualche cosa di più da temere rispetto ad altri sul mantenimento eh di questi custom duties poi nel 73 non c'è stata nessuna forma di esitazione mentre c'era altro che da parte della Francia rispetto all'allargamento nei confronti di due eh paesi complicati nel nella storia tedesca cioè la Gran Bretagna e la Danimarca eh ricordiamoci che la Danimarca ha recuperato un po' di terra un po' di confini ha spostato a sud dopo la seconda guerra mondiale i suoi confini con 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 la Germania e eh il rapporto tra i due popoli il trattamento ad esempio che i danesi avevano inflitto ai prigionieri tedeschi dopo dopo la seconda guerra mondiale fu un trattamento estremamente estremamente duro ehm quindi non non dobbiamo pensare che eh certe diffidenze certe la reazione della famiglia italiana sulla spiaggia che non vuole sentire parlare tedesco perché insomma la Germania ci ha occupato e ci ha fatto male sia un'esperienza soltanto degli italiani eh qualche cosa che ha marcato anche altri 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 paesi la diffidenza profonda eh di di Cerci nei confronti della Germania e naturalmente poi la 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 i norvegesi tutti gli scandinavi insomma dei danesi un passaggio su Churchill ora che che ci penso perché Churchill eh ancora una volta quali erano le le ragioni della del ritardato della della ritardata adesione della della Gran Bretagna all'Unione Europea Churchill è sempre stato un federalista europeo è sempre stato a favore degli Stati Uniti d'Europa ma dicendo ma non è per noi noi vogliamo che l'Europa diventi una ma senza la Gran Bretagna dentro perché sarà il modo migliore per imbrigliare tenere a posto eh Francia Germania quei disordinati italiani e via dicendo noi come Gran Bretagna dobbiamo fare di tutto affinché gli Stati Uniti d'Europa abbiano eh vedano la luce ma dobbiamo restare al di fuori perché noi abbiamo il Commonwealth e abbiamo il rapporto forte con gli Stati Uniti cioè lui in qualche modo aveva già scommesso sul sul Brexit mai avrebbe fatto quello che ha fatto Johnson togliendo le credenziali di ambasciatore al rappresentante dell'Unione Europea a a Londra come Boris Johnson ha fatto con una stupidissima eh ripicca che non è una cosa che non succede in nessun paese del mondo eh perché eh Churchill sarebbe stato ben contento di dialogare con una diplomazia europea e con un ambasciatore europeo però vedeva la Gran Bretagna fuori ma vedeva l'Unione Europea come il 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 punto cruciale per risolvere la questione la questione la questione tedesca comunque quando nel 73 poi la Gran Bretagna entra e la Germania la Gran Bretagna è entrata la Germania ehm non ha fatto nessun tipo di 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 opposizione la Francia la fece e mise condizioni e ebbe un dibattito interno molto molto complesso perché eh le resistenze a a far entrare la la Gran Bretagna non europea erano nella comunità europea all'epoca erano forti nemmeno ci furono esitazioni da parte tedesca con l'allargamento eh a sud cioè con la con l'ingresso dell'86 la Spagna il Portogallo poi eh pensate alla nel frattempo è arrivata appunto anche eh la 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 Grecia la Grecia fu un caso interessante eh eh il 1981 non soltanto la Germania non si oppose all'ingresso della Grecia nel nella comunità europea ma prima eh volle risolvere volle insomma forse in ogni caso risolse la questione delle riparazioni di guerra che erano rimaste in sospeso con 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 la Grecia e pagò fino all'ultimo fino all'ultima dracma eh le riparazioni di guerra che doveva alla alla Grecia poi c'è stato eh come dire l'accelerazione dopo la caduta del muro di Berlino questo questo eh questa riconoscenza nei confronti dell'appartenenza europea appunto come la possibilità di unificarsi di superare il muro e tutto quello che è successo dopo quindi il 92 Maastricht piena piena adesione nel 93 la la fu un importante criterio di Copenaghen perché ebbero delle conseguenze anche interne nella legislazione interna eh tedesca grazie ai 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 criteri di Copenaghen eh Bonn eh Berlino dovettero eh garantire dei diritti di minoranza a ai 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 sorbi o serbi come li vogliamo chiamare della 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 cioè quelli che sono come gli slavi gli slavi tedeschi ai frigi ai ai rom e ai sinti e gli dovettero riconoscere delle delle garanzie eh di di minoranze nazionali che furono indotte proprio da dai criteri di Copenaghen eh la Germania prima dell'Italia è entrata eh cioè da subito l'Italia è entrata dopo in Schengen nel 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 95 e poi c'è stato eh il il trattato di Amsterdam nel 97 che fu 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 in realtà il frutto di una lettera congiunta Chirac Chirac Cole che eh loro fecero un preaccordo che fu come dire prodromo al al trattato di di Amsterdam perché che cos'è che Amsterdam ha introdotto quel trattato ma erano elementi che erano già presenti nella nella posizione pre-trattato eh di eh di Chirac eh e di Cole la la cooperazione rafforzata cioè la possibilità per una serie di paesi di poter in modo trasparente in modo mai esclusivo ma lasciando la porta aperta a chi volesse eh entrare poter fare delle cooperazioni dentro il quadro e non fuori ma dentro il quadro delle istituzioni europee quindi dentro il perimetro della cooperazione europea delle 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 politiche eh più unite rispetto a quelle degli altri poi la cooperazione rafforzata non è stato questo grande successo è stato utilizzata molto poco e ma il fatto che la Germania con la Francia abbiano detto possiamo dare la possibilità a chi lo desidera di andare più avanti nell'integrazione purché sia sempre disposto a accogliere chi si voglia aggregare e naturalmente è una procedura che ripeto deve essere trasparente quindi non sono accordi riservati o altro fu estremamente eh significativa così come poi dopo la Germania è stata il motore del trattato d'inizia eh nel 2001 nel 2002 l'euro eh che eh dal punto di vista noi ci lamentiamo molto voglio dire o comunque molti italiani hanno sempre visto l'euro come una soprattutto il tasso di cambio che poi fu legato alla 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 lira eh ma l'opinione pubblica tedesca in maggioranza era contraria ripeto si trattava di rinunciare a una moneta che permetteva che era come dire uno ritorno su quello che dicevo prima cioè uno degli elementi non soltanto economico ma un elemento di identità culturale era un elemento del forse direi il principale elemento della rispettabilità tedesca nel mondo il questo questo marco tedesco era appunto non era le le colonie che si erano avute non era l'uso del francese non era l'esercito le forze armate era questa questa moneta fortissima che poteva dare del tu al dollaro ci si rinuncia per imbarcarsi in questa in questa vaga questione dell'euro fino poi arrivare ai danni fatti dai francesi e dagli olandesi ma non dei tedeschi sul affossamento della costituzione e al recupero di buona parte di quello che era il contenuto della costituzione con il trattato di lisbona e con quella dichiarazione molto forte della merkel la quale disse il trattato di lisbona è un passaggio fondamentale per l'europa ma è un vantaggio per la germania cioè disse quello che stiamo dicendo da mezz'ora tutto quello che riguarda ogni passo in più della germania in europa serve alla germania perché altrimenti dove sarebbe andata cosa come avrebbe potuto guardarsi allo specchio come avrebbe potuto proporre i propri interessi nel nel mondo ora non è che questo come dire faccia della germania un paese in realtà diverso laddove poi una serie di contraddizioni o se vogliamo di esitazioni proprie della politica europea sono tutte presenti anche dentro il dibattito tedesco pensate ad esempio alla forse un po' appunto per deformazione professionale a volte guardo appunto la germania come si pone rispetto al resto del mondo del mondo e a volte vedo delle incertezze se vogliamo a volte quasi una sorta di confusione rapporto ad esempio tra la germania e la nato è un rapporto cruciale c'è un cordone umbilicale che è evidente però al tempo stesso la germania come la francia nel 2002 fu il paese che disse no noi le truppe in iraq nella seconda guerra del golfo non le mandiamo oppure nel 2011 è stato l'unico paese occidentale nel consiglio di sicurezza a non votare la risoluzione del consiglio di sicurezza che istituiva la non fly zone sopra la libia che era la misura che poi ha permesso i bombardamenti in libia e l'intervento l'intervento di fatto militare ancorché soltanto con mezzi con mezzi aerei che ha portato alla caduta di Ghadafi la germania fu l'unico paese che disse noi non ci stiamo si astendero il consiglio di sicurezza non votarono contro ma rispetto a una misura che ormai aveva avuto il consenso dei cinesi dei russi oltre che naturalmente degli americani della francia della gran bretagna i tedeschi che facevano parte del consiglio di sicurezza in quell'anno non si oppure una certa una certa prudenza oppure qual è il 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 rapporto della della germania nei confronti di quello che storicamente ha sempre rappresentato una questione non da poco cioè la russia il grande orso russo la germania è il paese più vicino insomma da una parte si firmano trattati per accordi per il gasdotto che deve passare dalla germania cosa che ha creato grossi problemi con la polonia con i paesi del baltico poi però la germania è a favore delle sanzioni nei confronti della russia la merca è stata molto dura sull'annessione della crimea e queste tipo di incertezze le vediamo nella linea che la germania attualmente ha nei confronti della cina è il paese che più investe in cina è il paese che più importa in cina è il paese che l'anno scorso a dicembre il 28 dicembre a poche ore dalla fine della presidenza tedesca ha portato usando quasi direi forse abusando della posizione di presidenza forzando un po' sui tempi l'adozione dell'accordo comprensivo sugli investimenti con la cina il cai perché è un accordo molto importante per regolare gli investimenti cinesi in europa ma anche europei in cina cosa che adesso è completamente ferma perché non basta l'adozione da parte del consiglio c'è l'adozione da parte del parlamento nel frattempo sono arrivate le sanzioni cinesi europei in cina e cinesi nei confronti di una serie di personalità europee per cui siamo al livello più basso dei nostri rapporti bilaterali con la cina ma al tempo stesso comunque la germania ha levato voci per la repressione degli uiguri in cina e rispetto anche alla francia ha una politica spesso più assertiva sulle questioni di diritto dell'uomo cioè le incertezze come riuscire a comportarsi in un mondo globale dove gli interessi possono essere contrapposti ci sono anche in germania ci sono delle oscillazioni non si può dire oppure guardiamo gli ultimi dati dell'eurobarometro l'opinione pubblica in germania è decisamente pre-europea ed è interessante che questo accada anche dopo come dire ripeto cerchiamo di vederlo da un punto di vista tedesco l'esborso del recovery fund cioè un paese che dà più di quello che riceve ma al tempo stesso i dati dell'eurobarometro ci dicono che ad esempio il 42% degli intervistati quindi il 42% dei cittadini sulla base del sondaggio tedeschi ritengono che i deputati europei sono eletti a suffragio universale in modo diretto detto in altre parole il 58% pensa ancora che i deputati europei siano eletti in seconda battuta o siano nominati dai parlamenti nazionali cioè quanta ignoranza ancora eh in in cioè da una parte si crede nell'Unione Europea ma delle cose come dire elementari come che il voto al Parlamento Europeo è un voto diretto e i tedeschi poi vanno a votare come tutti gli altri è qualche cosa che di cui sono consapevoli soltanto il 40 40 42% dei 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 cittadini eh tutto questo ci ci porta eh alla fine a che cosa allora un paese che insiste molto su questo rapporto con l'Europa per le regioni che appunto sono diverse sono proprio di una qualità di uno spessore completamente distinto al tempo stesso un paese che eh ha le sue contraddizioni e ha le sue eh e ha le sue esitazioni eh un paese che è diverso dagli altri perché è il più grande nell'Unione Europea è la massa eh della popolazione il numero del parlamentare europeo il peso dei voti il voto ponderato in consiglio fanno sì che la Germania è il paese numero uno oltre che la principale economia eh del nostro del nostro del nostro del nostro continente però la mia esperienza la mia percezione è che eh e non è soltanto attenzione perché c'è da una parte il ruolo dell'economia poi il ruolo della popolazione quindi dei voti del numero dei rappresentanti c'è un terzo elemento che rende la Germania molto forte che è eh quello che dicevo prima cioè il sistema paese eh eh la cura sistematica metodologica nel rappresentare nel portare avanti quelli che sono considerati degli interessi nazionali che non sono necessariamente in contraposizione con gli interessi di altri paesi o dell'unione eh europea nel suo complesso ma che la Germania molto più efficacemente con molto più spirito di squadra disciplina studiando i dossier eh preparandosi investendo eh risorse umane eh curando gli interlocutori via dicendo cerca di eh propugnare eh per tempo con con proprio una calendarizzazione delle proprie eh attività cioè c'è una un livello voglio dire di 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 sono molto professionali in 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 decisamente in in tutti i modi anche se ripetono sono assolutamente poi perfetti perché eh poi eh dei dubbi dell'esitazione delle oscillazioni ce le hanno come ce le abbiamo tutti noi europei eh ci aspetteremo con queste qualifiche economia numero uno paese più grande e grande spirito di squadra che forse il paese guida all'interno dell'unione europea la mia percezione è che in realtà la Germania non è il paese guida dell'unione europea in parte perché l'unione europea come disse con una 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 felice espressione Prodi è un'unione di minoranze eh la Germania è il paese più grande ma comunque è una minoranza all'interno dell'unione europea non 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 i numeri per come dire dettare la propria la propria volontà e comunque sempre costantemente qualizzarsi con qualcun altro e generalmente lo fa attraverso l'alleanza strategica con con la Francia ma spesso non basta nemmeno l'asse franco tedesco per determinare scelte cruciali all'interno dell'unione europea poi perché ci sono dei limiti come dire enormi strutturali ad esempio pensate ehm l'importanza della lingua quanto il ruolo del Regno Unito e il ruolo della Francia ma poi il ruolo della Spagna siano importanti dentro l'Unione Europea e nel mondo perché hanno delle grandi lingue il tedesco non ha questo 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 questa questo prestigio e questa e questa supremazia è così e nonostante ci sia molta insistenza nel cercare di rendere il tedesco terza lingua di lavoro in istituzione europea di promuovere l'uso del tedesco eccetera ci sono dei limiti voglio dire e i tedeschi devono parlare e parlano francese o inglese o perfino spagnolo e difficilmente usano il il tedesco questo è un privilegio che spetta a pochi a pochi a pochi a pochi a pochi a pochi paesi pensate a come dire la l'attrazione nell'immaginario popolare che che alcuni paesi hanno perché possono essere per il cinema la moda l'alimentazione il turismo la cultura come dire paesi leader leader dentro l'Europa rispetto alle opinioni pubbliche europee ma leader anche fuori dall'Europa per cui quando si pensa si è in Argentina o in Sudafrica e si pensa all'Europa negli Stati Uniti si pensa magari a qualcosa e si pensa a Parigi o si pensa all'Italia o si pensa a Leonardo da Vinci o si pensa a Shakespeare non si pensa alla Germania difficilmente non è un elemento di seduzione ripeto tanto interno quanto fuori dall'Europa oppure pensate alla questione che naturalmente è molto importante della capacità di difesa ci sono varie classifiche che denotano quanto è efficace importante una forza armata rispetto a un'altra ma in tutte le classifiche le forze armate tedesche vengono sempre dopo quelle francesi e dopo quelle britanniche a volte dopo quelle italiane a volte addirittura penso ad esempio a una classifica che è stata fatta da un sito dal credit suisse dalle banche svizzere addirittura dopo quelle non solo italiane ma quelle polacche e nonostante ci siano investimenti nella difesa eccetera la Germania non è un paese che come dire possa come dire innanzitutto non ha la forza nucleare non ha la forza francese o britannica ma appunto ha una una capacità operativa delle sue forze armate che viene dopo quella di altri paesi e oltre a questo è un paese che ovviamente nonostante questo ruolo così importante la prima economia europea eccetera non fa parte e per varie ragioni molto difficilmente farà parte anche in futuro del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo stabile non soltanto perché non avrà e non ha mai avuto ovviamente il seggio permanente ma anche perché le riforme per dei seggi semipermanenti che la Germania aveva appoggiato e sulla quale si era impegnata parecchio negli anni soprattutto 90 2000 sono riforme che poi sono sempre fallite tra l'altro anche grazie all'opposizione dell'Italia detto questo non è che tutto torni in un quadro di un paese che si ritrova dentro i processi europei ripeto con una qualità che è diversa rispetto a quella degli altri che ha dato sempre un ruolo propositivo costruttivo che non si è mai sottratto alle proprie responsabilità egli è dicendo e che guardano l'Unione Europea come appunto la possibilità del superamento di un proprio passato ad esempio una questione quando ero parlamentare io me ne dovetti occupare anzi due questioni posso ricordare voglio dire che sono state due questioni molto critiche una riguardava e lì vediamo una grande confusione secondo me tedesca riguardava la questione della cooperazione giudiziaria nei confronti dei criminali di guerra tedeschi condannati dai tribunali militari italiani in particolare il tribunale della Spezia ricercati ma di cui la Germania si è sempre rifiutata di procedere all'estradizione che è rimasta una una spina aperta nei rapporti bilaterali tra Italia e Germania quando ma al tempo stesso una cosa ad esempio che ho trovato sempre curiosa non curiosa ma comunque significativa tutt'altro che curiosa è che nel progetto di fondazione per la pace in uno dei luoghi delle grandi stragi naziste Sant'Anna di Stazema dove furono uccise più di 500 persone essenzialmente anziani e bambini la Germania manda ogni anno dei giovani tra l'altro con dei fondi europei che la fondazione per la pace di Sant'Anna Stazema invece non riesce mai ad avere perché è proprio incapacità mentre invece i tedeschi usano i fondi europei e li usano addirittura per progetti che poi hanno come dire un diretto beneficio più per l'Italia in questo caso che non per la Germania mandano dei giovani europei a fare dei campi per la pace e questi ragazzi tedeschi vengono a Sant'Anna di Stazema che è un paesino in Versilia in cima proprio dove finisce la strada in montagna e curano fanno un po' di manutenzione c'è questa sorta di via crucis via dei martiri che poi porta a Sacrario in cima alla montagna fanno dei lavori alla forresteria e poi naturalmente dei seminari incontrano sempre quei pochi sopravvissuti in particolare Enrico Pieri che è stato uno dei pochi sopravvissuti era un bambino quando questa tragedia questo uccidio avvenne Enrico Pieri che tra l'altro vinse il premio cittadino europeo dato dal Parlamento europeo e il presidente del Parlamento europeo all'epoca era un tedesco Schultz Schultz fu estremamente cordiale con lui disse signor Pieri signor Pieri proprio un abbraccio un pianto un come dire un passaggio di riconoscenza nei confronti di questo omino piccolino che pensate tutta la sua famiglia fu uccisa dai tedeschi durante questo eccidio che fu completamente ingiustificato non si è mai capito perché ci fu quella rappresaglia non c'erano stati partigiani non si è mai una storia molto complessa quella di Santana di Stazema oltre 500 vittime uccise nelle case poi si erano asserragliate nella chiesa e uccise tutti dentro la chiesa poi questo ragazzo dopo l'orfanatrofia dopo la guerra andò a lavorare come immigrante dove? in Germania dove imparò il tedesco e alla fine fece l'operaio poi dopo andò in Germania nella Svizzera tedesca e alla fine quando poi andò in pensione perché lui vive con una pensione tedesca fantastico no? vediamo le complessità della costruzione europea nella vita nella vita di una persona famiglia distrutta dai tedeschi poi lavora impara il tedesco lavora in Germania la pensione pagata appunto dalla Germania questo Enrico Pieri è diventato un grande ambasciatore della causa europea tra l'altro con le parole semplici che lui utilizza secondo me è un grande veicolo di pace ha preso questo questo premio del cittadino europeo ma al tempo stesso con il presidente del Parlamento europeo felicissimo lo si poteva vedere di dare questo riconoscimento a Enrico Pieri presidente del Parlamento europeo che peraltro è andato almeno una volta forse anche due se non ricordo male a Santana di Stazema ad agosto per la commemorazione ufficiale però però quando poi si tratta di estradare in Italia i criminali riconosciuti come artefici di ecidi tedeschi la magistratura tedesca si è sempre fermata oppure c'è una questione che è molto conosciuta all'interno di chi ne viene coinvolto ma che in realtà è marginale ma è una questione velenosa nei rapporti tra tedeschi e altri popoli all'interno dell'istituzione europea che è la questione dello Jugendam che è una agenzia federale tedesca che si occupa del benessere dell'infanzia tutto sembra tranquillo soltanto che questo Jugendam deve dare un parere che è un parere vincolante in ogni caso di separazione di genitori di coppia mista che abbiano dei figli tedeschi lo Jugendam ha un parere vincolante di cui il giudice deve tener conto e costantemente l'atteggiamento dello Jugendam è che il figlio debba essere affidato al genitore tedesco anche laddove il genitore tedesco abbia commesso dei reati sia stato identificato dagli assistenti sociali come un genitore violento sia la causa della separazione e via dicendo la giurisprudenza la giurisprudenza è sistematica e i conflitti sotto questo profilo i conflitti giudiziari tra danesi e tedeschi italiani e tedeschi polacchi e tedeschi spagnoli e tedeschi francesi e tedeschi sono costanti e non si riesce a fare breccia su questa questione dello Jugendam e lì vengono fuori delle cose molto strane ad esempio gli avvocati tedeschi come tutti gli avvocati quando diventano avvocati devono fare un giuramento ma in Germania il giuramento non avviene in virtù cioè non si non si non si giura alla libertà all'uguaglianza alla giustizia a fine conti la legge è uguale per tutti questo ci aspetteremo da no l'avvocato in Germania è nel suo giuramento deve giurare all'ordine costituito questa è l'espressione del giuramento e lo Jugendam e la la legislazione del diritto di famiglia fa sì che l'interesse del figlio ad esempio sia l'interesse di essere in contatto con la comunità nazionale a cui appartiene cioè il bene del bambino non è in primo luogo il bene di restare con il genitore che si è dimostrato o che il giudice decide è migliore per il suo sviluppo per la sua crescita per come si sono comportati i due genitori e via dicendo no il bene del bambino è in primo luogo il rapporto con la propria nazione e anche se uno dei due genitori è tedesco quindi con la nazione tedesca la questione della continuità ad esempio dell'appartenenza a un mondo germanofono è cruciale per cui siamo arrivati a dei paradossi in cui dei genitori tedeschi che però volevano andare a vivere all'estero come ad esempio in Italia si sono separati lasciando la compagna il partner che invece era non tedesca ma che continuava a vivere in Germania il figlio è stato sistematicamente affidato alla persona magari di non nazionalità tedesca ma che continuava a vivere in Germania che avrebbe permesso al ragazzo l'educazione la continuazione del corso degli studi in Germania le autorizzazioni per ad esempio effettuare delle vacanze da parte dei genitori che si sono separati o addirittura i colloqui che magari una volta al mese o due volte al mese sono anch'esse soggetti rispetto a questo tipo di esigenza arrivando al punto che alcune decisioni prevedono i colloqui in presenza di assistenti sociali che devono assicurarsi che il colloquio avvenga in tedesco anche con il genitore che si sa che parla tedesco ma che non è tedesco e di questa questione ad esempio ci sono state sentenze della Corte di Giustizia di Strasburgo che non sono recepite dalla Germania ci sono state numerosissime ci sono numerosissime petizioni al Parlamento Europeo c'è una procedura di petizioni che forse conoscerete con una commissione parlamentare che è permanente nella commissione per le petizioni regolarmente arrivano petizioni di genitori che si sentono discriminati da questo ma non si riesce a far breccia in quello che rimane ancora come dire ora vi parlo di questo aspetto un po' perché me ne sono occupato un po' perché lo trovo estremamente interessante nel come dire dimostrare che delle forse delle scorie degli antichi riflessi dei complessi che permangono sono ancora materia di 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 confronto all'interno delle istituzioni arrivando e qui tocco una questione con la quale discussi e lui devo dire è straordinariamente imbarazzato perché purtroppo è così non è che io dico delle cose false ma discussi con un dibattito pubblico con un ambasciatore tedesco ha una giurisprudenza ancora una volta tedesca sempre sullo jugendam che stabilisce che se il figlio oggetto di una coppia mista ripeto è disabile allora in questo caso può essere dato al genitore non tedesco perché perché non soltanto uno potrebbe dire insomma la ragione è perché il contributo del disabile alla società tedesca è comunque minore rispetto al 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 ruolo pieno che può avere la persona voi capite che qui tocchiamo degli incubi cioè tocchiamo dei fantasmi che arrivano dal passato e che continuano come dire ad agitarsi e ci sono articoli libri giurisprudenza sono questioni ora il diritto di famiglia è sempre molto interessante io non me ne occupo perché come avete capito mi occupo di 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 altre questioni però l'Europa ha ancora come dire tre zone in cui facciamo tanta fatica a fare integrazione una è la politica estera e la politica di difesa in cui abbiamo bisogno di un'unanimità e lo sappiamo l'altra è la questione della politica fiscale che è molto complessa perché poi vuol dire a cosa servono le tasse il rapporto tra 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 le mille le mille l'etica del l'etica del fisco eccetera dove ci sono anche proprio come dire delle concezioni diverse tra tra cattolici e protestanti oltre oltre a tutto il resto la terza questione è il diritto di famiglia dove abbiamo ancora delle zone d'ombre molto complesse e questo vale anche per gli italiani la nostra concezione di famiglia ora sta un po' cambiando ma voglio dire è una concezione che ci teniamo ben stretta per cui due persone che sono famiglia per la legge sposate in Spagna non in Svezia ma in Spagna si stabiliscono in Italia e in Italia non sono più famiglia perché sono magari due uomini con la legge Cirinà questo problema è stato risolto ma fino a pochi anni fa era così così come la Polonia continua ad avere un problema molto importante naturalmente sulla questione dell'assistenza l'inseminazione artificiale l'aborto adesso la questione della famiglia è Orban ovviamente continua a dire che la famiglia è in Ungheria esclusivamente composta da padre madre figlio non padre madre e basta ci vuole il figlio perché sia veramente la famiglia ecco in Germania la concezione della famiglia è comunque legata all'eimat al suolo alla cultura alla lingua e se un genitore si separa dall'altro e magari è violento e magari è un genitore che si dimostra alcolizzato ha picchiato i figli o altro ma è tedesco e permette l'insegnamento in tedesco beh insomma è a lui che il figlio deve allora c'è ancora molta strada voglio dire sotto questo profilo che ci rendiamo conto dobbiamo compiere e per certi aspetti è anche bene che ognuno dei nostri paesi abbia le sue profonde contraddizioni perché se delle contraddizioni noi parliamo se delle nostre debolezze parliamo se delle nostre cadute parliamo è più facile poi incontrarsi aiutarsi e cercare di superarle di superarle insieme anche perché appunto la scarsa cooperazione giudiziaria sui crimini nazisti e la questione dell'ugendam dimostrano che il peso della storia continua e la sociologia questo ce l'insegna sempre continua a esercitare tutta la sua influenza ma e qui mi avvio come dire alla conclusione quale storia quale storia alla fine cioè Federico il Grande era uno che amava la Francia più della Germania forse ma era Federico il Grande eppure chiamò la sua corte con un nome francese fatto abbastanza strano per non solo accolse i protestanti io sono valdese quindi mi interessa molto la storia accolse i protestanti francesi che in Francia erano massacrati e addirittura cambiò la legge delle elezioni per il consiglio municipale e permise a loro di votare per i propri rappresentanti e di avere una quota per i francesi dentro il consiglio municipale di Berlino cioè tanto per capirci l'unico altro paese che ha dato il diritto il primo altro paese che ha dato il diritto di voto all'elezione amministrativa ad emigranti fu la Svezia 250 anni dopo Federico il Grande allora è un po' come dire l'esempio di Federico il Grande che dà il voto agli stranieri è quasi in contraddizione completa rispetto alla giurisprudenza oggi dello Jungendam per cui il figlio del ser tedesco deve insistere su questo dato della germanofilia assoluta oppure chi direbbe oggi che nel sedicesimo secolo la minaccia principale il paese più più dispotico forse più violento più aggressivo più imperialista era la Spagna e certamente non la Germania certamente non l'Italia ma la Spagna la Spagna che cacciò nel 1492 prima gli arabi e poi tutti gli ebrei e li cacciò in un modo voglio dire con ogni forma di tradimento per non riperdere tutti quelli che si erano convertiti e poi dopo vi togliamo tutto e vi rimandiamo via e convertiti venivano a quel punto discriminati nei paesi che li accoglievano e via dicendo la storia della Germania è la storia ad esempio delle libertà comunali quando la Francia o le Fiandre proprio le libertà comunali non le conoscevano e invece la Francia e la Germania anche quando l'Italia stava cominciando a perdere ormai le libertà comunali la Germania le ha promosse fino in fondo o se vi leggete un libricino curiosamente tradotto da Filippo Tommaso Marinetti che è La Germania di Tacito che è un libricino un saggio insomma che Tacito scritto scritto sulla Germania ne viene fuori il ritratto da parte di questo grande storico romano di un popolo leale mite di un popolo disciplinato e con una grandissima eguaglianza di tre due sessi che ad esempio nella Roma pur essendo barbaro che nella Roma antica ancora ancora non 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 c'era cioè la storia ci dà una il ritratto di una di una Germania rispetto a certi stereotipi che abbiamo che è completamente diverso stereotipi stereotipi io non so quanto tempo ho professore perché parlando di Germania di stereotipi della storia poi come dire non posso non ricordare l'esempio del centunesimo battaglione di polizia ausiliaria della della polizia ausiliaria di Hamburgo una storia straordinaria anche quella un battaglione composto da 500 chi artigiani essenzialmente la polizia ausiliaria cioè i più sfigati cioè quelli che vengono chiamati in guerra all'ultimo e per compiti minori nessuno di loro iscritto polizia ausiliaria al partito quindi nessuno di loro con una formazione ideologica nazista ripeto artigiani essenzialmente nessuno di loro era ufficiale erano a parte qualche ufficiale ma quelli non erano della polizia ausiliaria erano della polizia vera e propria queste 500 persone vengono arruolate nel luglio del 42 e essendo persone comuni gli viene dato un compito molto semplice nelle operazioni di guerra fucilare i prigionieri che è una cosa il prodotto di esecuzione beh questi qua questi 500 4 persone si rifiutano di fucilare perché non se la sentono anche perché non si trattava di fucilare nemici si trattava di fucilare essenzialmente civili e questi 4 che chiedono di essere esentati vengono esentati non vengono puniti vengono dati semplicemente altri compiti tutti gli altri aderiscono al comando e dal luglio del 42 al novembre del 43 quindi in un anno e mezzo questi 500 uomini del 101esimo battaglione polizia ausiliaria di di Hamburgo fucilano 83.000 persone 83.000 tra la Polonia l'est della Germania la Lituania vengono mandati e devono ammazzare tutti quelli che hanno ogni giorno e ci provano gusto ci provano gusto al punto che qualcuno chiama addirittura degli amici che fanno teatro per le truppe tedesche dicendogli venite che qui c'è facciamo questa cosa partecipate anche voi e questa compagnia teatrale va e si trattiene una settimana entusiasticamente partecipando a questo a questo tiro al bersaglio sulla 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 popolazione dopo la guerra un 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 visto uno di questi perché nessuno di questi poi è stato punito dopo la guerra non li consideriamo nemmeno criminali e questo qui disse per me dice ma come facevate a uccidere tutti questi bambini queste donne perché erano civili essenzialmente ebrei slavi e ebrei e lui disse ma quando c'era ad esempio un bambino e la mamma col bambino io io prima uccidevo la la mamma e poi a questo punto mi risultava facile uccidere il bambino perché una volta persa la mamma gli dicevo cosa può fare il bambino senza la mamma intanto vanno a ammazzarlo ecco la Germania è anche stato questo un paese fondamentalmente disperato nella totale nel totale smarrimento dei 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 valori così diverso mi fa piacere di parlare con l'università di Salerno dalla testimonianza di Napoli 44 quel bellissimo libro dell'ufficiale tedesco inglese il quale dice ma accidenti qua a Napoli ci sono moltissimi fascisti e tedeschi che non riusciamo a trovare e sappiamo che sono protetti dalle famiglie napoletane perché qua non esiste la cultura del denunciare qualcuno a cui si dà rifugio che civiltà e ne parla in termini voglio dire dicendo questa gente fantastica straordinaria lui infatti fu completamente sedotto dalla sua esperienza napoletana di proprio parlando di una civiltà popolare che riusciva a resistere dopo l'occupazione tedesca dopo il massacro lecito nella scuola dopo tutto quello che era accaduto a Napoli ma che comunque non chi era stato sconfitto chi ormai era perseguitato insomma se gli si doveva dare una mano e la chiedeva gliela si dava non ecco questi altri invece vanno e 83.000 persone in un caso c'è un libro di Browning molto interessante che vi consiglio perché fa capire tante cose della Germania dell'Europa di quello che eravamo fino a ieri vabbè io posso dirvi soltanto che la mia esperienza con la Germania è quella di un paese con i miei colleghi tedeschi che si sente e si percepisce spesso che come dire hanno questo peso di essere caduti ma al tempo stesso di essersi rialzati caduti ma di nuovo di nuovo in piedi non non immuni forse da una prossima caduta ma caduti e qui ripeto Federico II o le stragi fatte da Napoleone o dagli spagnoli e non dai tedeschi non come tutti noi possiamo cadere e allora alla fine quello che rimane è l'eredità di questa Europa che è molto ambigua è un'eredità molto è molto contraddittoria che è l'eredità che poi voi studenti con la vostra generazione avete ma un'eredità in tutta la sua ambiguità che non è né luci io quando si parla di Germania Europa non mi piacciono come dire le celebrazioni no? le a tutto sono ancora problemi voglio dire ma ma al di là delle celebrazioni è un'eredità incomparabilmente migliore straordinariamente migliore rispetto a quello che è stato conosciuto dalla generazione dei miei genitori senza andare troppo 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 lontano e alla fine per per quello che ci rimane che cos'è uno che il destino della Germania oggi è ineluttabilmente legato al destino dell'Europa più ancora di quanto lo sia quello dell'Italia o della Francia per ragioni che ho cercato di spiegare in secondo luogo che proprio per la sua complessità queste cose vanno svelate tirate fuori parlate discusse apertamente costruttivamente nel bene e nel male ma il superamento avviene non attraverso il tabù ma avviene attraverso la rivelazione e la terza cosa è che non c'è conclusione che ancora la conclusione non non c'è e che la fine della storia non è mai segnata che voi dovrete vedere come sta anche a voi naturalmente come nuova generazione di portarla avanti e che è più che molte altre cose un work in progress decisamente grazie grazie onorevole con la sua assonata relazione si capisce dalle sue parole che insomma parla con le esperienze anche dei dei fatti anche per averci grazie per averci ricordato anche dei fatti degli aspetti particolari della cultura tedesca che aiutano a capire a comprendere spesso molto di più del racconto della storia quella con la S maiuscola c'è un elemento ancora diciamo irrisolto dentro i tedeschi però è pure vero che loro hanno fatto i conti col passato negli anni 70 hanno messo in campo una grande discussione intorno alla responsabilità non dei nazisti ma dei tedeschi e intellettuali come Habermas erano molto convinti del fatto che la Germania avesse una colpa tutta la Germania non i nazisti quello stessa quello stesso quello stesso dibattito quello stesso fare i conti con la memoria scomoda che aiuta come se fosse una specie di catarsi che l'Italia non ha mai fatto che l'Italia non ha mai fatto anche l'Italia ha avuto i suoi fantasmi la sua guerra civile anche cose che risponde soprattutto però adesso senza tirare fuori una pagina dolorosa non ha mai fatto i conti con il suo passato fascista non ha fatto i conti con il suo passato di chi ritiene che la parte giusta stava solo da una parte ovviamente ognuno ha i propri giudizi però se si fosse fatto in Italia anche un discorso serio e non soltanto pubblicistico giornalistico e come dire insomma di di bassa rega forse anche noi avremmo tratto beneficio la Germania ha sicuramente i suoi fantasmi che si continua a portare avanti la storia è sicuramente una cosa che conta anzi da qui io partirei per farle subito una domanda non abbiamo più molto tempo perché abbiamo finito insomma il nostro orario però se c'è qualche domanda di ragazzi o anche a Dele se vogliono intervenire certamente abbiamo ancora qualche minuto quindi la mia domanda me la tengo sentiamo prima i ragazzi c'è Carlos che ha alzato già la mano prego Carlos a Dele se vuoi intervenire poi ti do la parola Carlo sul tuo microfono adesso ok ringrazio il nostro caro professore la prima domanda è questa ho preso il treno al volo già che tutto era iniziato ho perso qualche l'inizio della conferenza l'ho persa ma da dove sono mi sono collegato ho capito questo la Germania non avrebbe nessuna difficoltà a un'eventuale formazione di una forza armata dell'Unione Europea invece la Francia sì la Francia sarebbe contrario a questo progetto a causa della grandeur francese un orgoglio francese cioè perché c'è una specificità nella forza armata loro e quindi da questa affermazione io voglio capire se è una lettura dei europeisti federali oppure se la Francia stessa condivide condivide questa questa idea cioè che riconosce questa difficoltà loro a un progetto della forza armata Unione Europea la seconda domanda invece non è tanto una domanda perché studiando la seconda guerra mondiale ho sempre pensato che quando si parla della riparazione della Germania ho sempre pensato che sia Germania verso la Francia principalmente ma lei ha parlato della riparazione della guerra alla Grecia quindi forse sono stato un po' un po' distratto nell'imparare la lezione della seconda guerra ma sempre ho pensato alla Francia perché la Francia doveva ricevere dalla Germania dando accusa a Hitler al nazismo sono state la causa della seconda guerra mondiale principalmente e quindi la Francia è la 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 nazione che doveva ricevere dalla Germania e quindi quando lei ha evocato la Grecia mi sono chiesto ma fosse anche questo come mai non ho fatto attenzione nel passato alla la nazione della Grecia alla quale si doveva anche una riparazione grazie mille grazie Carlo raccontiamo le domande se ci sono altre in modo che lo volevo spiegare allora ora si 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 allora se se è possibile se non ci sono altri altre persone che vogliono bene dunque io intanto ringrazio per la bella relazione dell'onorevole Rinaldi che mi ha stimolato ci sarebbero tantissime cose da dire io per la mia esperienza mi viene da dire che tanti aspetti che lei ha trattato oggi che ci ha raccontato e che ha delineato come le contraddizioni della Germania contemporanea e in realtà non sono contraddizioni ma sono il fatto che la Germania ha tuttora un problema di identità e questo è un problema antico antichissimo che è stato l'incontro ovvero lo scontro tra quell'area dell'Europa con il mondo latino e cristiano successivamente che non fu un incontro pacifico fu un incontro molto violento quindi in realtà ma questo non lo dico io lo scrive Veblen peraltro quindi la violenza è una sorta di leitmotiv nella storia della Germania coniugata al problema dell'identità per cui si spiega benissimo perché per esempio lo Jugendamt ancora si basa sull'idea del Bluetooth Dopodiché è ovvio che la Germania dopo la seconda guerra mondiale si è dovuta riconvertire al mondo contemporaneo al mondo che parla l'inglese per questo il tedesco che è la lingua più parlata dell'unione in fondo non impone il proprio peso anche perché tra l'altro insomma il tedesco non si improvvisa quindi è più semplice ormai tra l'altro mi viene il dubbio visto che lei si occupa di Asia la difficoltà del tedesco a imporsi come lingua sarà la stessa cosa per esempio per il cinese perché la Cina è ormai diventata una potenza quindi la Germania del secondo dopoguerra ha dovuto essere molto molto pragmatica tant'è che Lady Thatcher dopo la riunificazione tedesca nel 1990 disse ma guarda un po' questi tedeschi hanno perso la guerra la seconda guerra ma hanno vinto il terzo dopoguerra questo disse Lady Thatcher che era comunque quindi chiudendo questa cosa una domanda però avrei da farle dal suo osservatorio i rapporti come secondo lei possono evolvere i rapporti stanno evolvendo i rapporti tra la Germania e l'est Europa e l'Asia e l'estremo Oriente perché il polo d'attrazione è forte da quella parte adesso è chiaro che non c'è più Trump ma Biden è promettente eccetera però indubbiamente la Germania ha nei confronti dell'est Europa e dell'est l'estremo Oriente una grande attrazione in tutti i sensi quindi non solo economico finanziaria e produttiva ma anche culturale grazie grazie Adelia allora se non ci sono altri interventi faccio due domande molto secche senza commentarle una si allaccia alla domanda appena fatta da Adele si è sempre detto che il cambiamento di attenzione che la Germania ha avuto nei confronti di paesi deboli debitori chiamiamoli così si è cambiato da ieri ad oggi cioè dal modo in cui ha gestito la crisi dei debiti sovrani al modo in cui sta gestendo invece l'aiuto con il next generation perché è cambiato molto la bilancia diciamo commerciale con i paesi extraeuropei cioè prima durante la crisi dei debiti sovrani aveva molta contatti con Sud America Est extraeuropei quindi non si è molto preoccupato di quello che accadeva in Europa adesso siccome questi mercati sono più problematici torna a investire molto in Europa e quindi gli è anche molto comodo lo butto così di ridare l'infa vitale all'Europa volevo la sua opinione su questo e l'altra questione che è emersa durante questi questi seminari e cioè che per il peso della storia di cui lei giustamente ha fatto cenno da poco si è aperta la conferenza sul futuro dell'Europa qualcuno avanza l'idea che sarebbe opportuno fare un passo in avanti con l'Europa a due velocità in questa Europa a due velocità ci sarebbe ovviamente anche la Germania è evidente altrimenti non si fa nulla però la difficoltà della Germania a fare questo passo ulteriore cioè di cedere ancora di più sovranità ad un organismo sovranazionale sta nel fatto che nella sua storia non c'è una non c'è una presenza di una organismo statuale simile al federalismo ma molto più simile all'Unione cioè all'impero ma nel senso di giusta posizione di elementi per cui non è molto portata al federalismo ma è molto portata a quello che è oggi l'Unione Europea cioè un'Unione ecco anche se da questo punto di vista vorrei sentire la sua la sua opinione dunque raccolto in tutto circa sì circa 4-5 domande allora comincio dall'ultima non so non lo so io non sono uno specialista voglio dire di di Germania e di storia in particolare anzi devo dire la verità che mi interessa molto quello che il professore ha detto perché partivo sempre dal presupposto che la Germania con i suoi lender fosse un paese più elastico nel cioè una conflittualità che abbiamo visto anche all'interno del dibattito tedesco su sulle competenze lockdown confinamento attività aperte attività chiuse tra lender e dimensione statuale non molto diversa da quella che c'è tra le regioni e il governo in Italia forse ha aiutato la Germania a capire l'analoga sovrapposizione di piani decisionali tra stati membri e dimensione europea cioè questa articolazione nell'ordinamento statuale tedesco io ho sempre pensato che invece aiutasse la Germania a sposare un progetto tendenzialmente federalista però è anche vero che è un paese molto sistema e quindi molto abituato a ragionare comunque con col proseguire una strada tutti insieme insomma con articolazioni poi tutto sommato limitate una volta che ci si è posto un obiettivo e non saprei non saprei dargli appunto una mia valutazione comunque dalla lettera che ho citato prima che era la lettera che insomma puntava che proponeva già il sistema e la procedura della cooperazione rafforzata tra la Germania si è sempre manifestata aperta ai vari strumenti che sono la possibilità per la corte di giustizia di aprire delle competenze ulteriori su richiesta degli stati membri trattato di Lisbona la possibilità per i parlamenti nazionali di avere questo cartellino giallo e una volta che sono in numero sufficiente di porre una base giuridica per una tutte cose però la possibilità dell'iniziativa dei cittadini europei cioè queste modalità di allargare il campo delle azioni europee non necessariamente tutti insieme facendo soltanto con chi ci sta e che in buona parte sono appunto raccolti nel trattato di Lisbona e che peraltro non sono mai stati perseguiti applicati fino in modo molto convinto cioè sono disposizioni spesso rimaste un po' lettera lettera morta ma insomma hanno sempre visto il sostegno della Germania che ha dimostrato sotto questo profilo secondo me una flessibilità maggiore rispetto a quella di altri paesi soprattutto dei paesi più piccoli che quando vedono questa possibilità di una Europa a più velocità hanno sempre paura che questa Europa a più velocità poi possa essere un treno che parte senza di loro anche se è un treno che ripeto per ora non è mai di fatto partito però la Germania sì secondo me questo tipo di elasticità istituzionale lo ha sempre messo nel proprio dibattito poi la questione degli scenari diciamo industriali e di investimento ma non so la Germania come sappiamo è il paese che con l'Italia ha il manufatturiero più importante di tutta l'Europa i due i due sistemi industriali sono molto integrati e dipendono molto gli uni dagli altri l'industria a parte che il manufatturiero tedesco è percepito a volte dai tedeschi come troppo dipendente dalla produzione di automobili come il prodotto di punta che se entrasse in crisi metterebbe in seria difficoltà il sistema industriale europeo l'indotto dell'industria automobilistica tedesca in Italia è immenso l'Italia fa parte di questo sistema industriale tedesco automobilistico quindi l'interesse che la Germania ha sempre avuto sulle questioni italiane è sicuramente anche a che fare con altri aspetti ma certamente anche quello e ripeto la mentalità del sistema si applica all'interno del proprio paese ma si applica anche immediatamente fuori dal dal perimetro laddove qualcos'altro faccia parte di questo sistema si applica sulle questioni industriali italiane e la Germania insomma ha bisogno di una di un di un di un'alleanza industriale anche perché con l'Italia ha fatto come dire maggiore resistenza rispetto ad altre tendenze all'interno dell'Unione Europea che hanno visto l'Unione Europea sempre più come una potenza poco industriale ma più aperta ai servizi un'economia aperta il terziario e smantellare sostanzialmente gradualmente insomma la potenza industriale limitandola all'essenziale partendo dal presupposto che non si può comunque competere con produzioni industriali a costo più basso soprattutto delle cosiddette tigri asiatiche la Germania guarda più di qualsiasi altro paese europeo all'est all'Asia devo dire che è forse l'unico paese europeo che ha una politica vera sull'Asia non esente da contraddizioni e da esitazioni come tutti ma perché non è un limite della Germania perché le cose sono difficili sono complicate non è non è che dialogare con con e il punto secondo me cruciale è soprattutto l'Oriente l'Oriente asiatico insomma più che l'America più che l'America latina ma la Germania questo lo ha capito da da molto tempo sa che per confrontarsi essendo proprio un paese che si confronta con i colossi asiatici è consapevole dei propri limiti e dei limiti di ciascun paese europeo cioè un tedesco con una volta mi disse ma per noi il problema dei cinesi non è il costo più basso della mano d'opera sarà anche quello ma il fatto che questi sono un miliardo e 400 milioni di abitanti e hanno una legislazione sul lavoro una diplomazia una moneta una legislazione un ambientale una politica industriale eccetera noi siamo adesso senza la Gran Bretagna 450 milioni e andiamo avanti con 27 ministri degli esteri 27 legislazioni del lavoro 27 legislazioni ambientali 27 politiche industriali 27 mercati diversi più la dimensione europea che è una ventottesima dimensione ovviamente il confronto non c'è cioè loro confrontandosi con l'India il Giappone naturalmente la Cina ma anche un paese ormai in grande crescita come l'Indonesia hanno l'idea che l'Europa è estremamente fragile se rimane parcellizzata e che fragile l'Europa è fragile la Germania che l'unica scommessa che la Germania possa fare per difendere i propri interessi è quello di scommettere appunto su una politica industriale europea su una diplomazia europea e via dicendo come unico modo per affermare ancora un ruolo a testa alta alla luce del sole della Germania nel resto del mondo questo secondo me loro lo hanno capito prima degli altri